Gentili telespettatori, buona giornata. Matteo Salvini in una lunga intervista sul quotidiano della stampa spiega tra le altre cose, dice vi spiego il perché la Lamorgese ha fallito, ma quello credo che sia abbastanza chiaro agli italiani quello che succede ormai da tempo al Ministero degli Interni. E così i temi dell'immigrazione clandestina, non l'immigrazione normale ma quella clandestina, e dello Iussori dall'altra parte continuano ad animare il dibattito politico italiano. Replica Salvini appunto alle parole del Ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, che sempre il giorno prima sullo stesso quotidiano la stampa sintetizza il suo pensiero con il titolo «L'emergenza migranti c'è, ma Salvini non la capisce». Come? «L'emergenza migranti c'è, ma Salvini non la capisce». Ma veramente. E Silvini, così, ha sottolineato che il Ministro è disponibile ad accogliere eventuali suoi suggerimenti. Infatti, una frase che a me non era sfuggita, la Lamorgese dice «Salvini non capisce l'emergenza migranti, se ha dei suggerimenti li dica». E Salvini dice «Bene, vuole dei suggerimenti, glieli ridò». «La ringrazio, ma dire il vero non ho mai smesso di dire la mia», dice Salvini. «L'ho fatto e continuerò a farlo con spirito costruttivo e con la credibilità di chi ha reso possibile il crollo degli sbarchi del 79,6% dal 1 agosto 2018 al 31 luglio del 2019». Calo degli arrivi e anche delle tragedie. «Meno 95%, meno 55,3% di dispersi» sono i numeri che dice il capo della Lega. E questi sono numeri assolutamente reali, non sono opinioni, sono i numeri. Quest'ultimo ha ricordato che in un anno di governo, dal 1 agosto del 2018 al 31 luglio del 2019, in Italia erano arrivate 8.691 persone, contro le 42.700 dello stesso periodo tra il 2017 e il 2018, e addirittura le 182.877 tra il 1 agosto 2016 e il 31 luglio del 2017. Sono dei numeri assolutamente incredibili. Salvini evidenzia che questo trend, confermato anche da Frontex, nel luglio di un anno fa, nel pieno del governo Conte II, l'agenzia segnalava il raddoppio degli sbarchi verso le nostre coste, con conseguente diminuzione della pressione verso Grecia e Spagna. Non a caso, ha rimarcato Salvini, Atene e Madrid lamentavano di essere assediate proprio quando da Roma avevamo deciso di chiudere i porti. Per questo a settembre sarò a Palermo. Il leader della Lega poi si rivolge direttamente all'attuale ministro dell'Interno, ricordando alcune frasi pronunciate dalla titolare del Viminale. La Morgese sostiene che il sottoscritto non capisce, ma temo che a non afferrare la gravità della situazione sia invece lei. Lo dimostrano le sue dichiarazioni dal 2019 ad oggi. Parlava di nessuna invasione. Poi diceva che il preaccordo di Malta sui rimpatri comincia a dare i primi risultati. E aggiungeva che ci siamo attivati per intensificarli. Dice alla Repubblica il primo novembre del 2019. Ma non è tutto. Salvini ricorda che la Lammorgese pochi mesi dopo rilancia con Abbiamo lavorato intensamente per rendere sempre più costruttivo il confronto con tutti gli altri paesi membri. Per ottenere il meccanismo di ripartizione obbligatoria. Diceva sull'avvenire intervistata il 14 giugno del 2020. Io lo ribadisco qua e lo ribadirò sempre. È un illuso chi pensa che l'Europa si prenda obbligatoriamente, automaticamente, una percentuale di tutti i clandestini che arrivano in Italia. Ma che film avete visto? I paesi europei che si fanno spedire dall'Italia i clandestini in maniera proporzionale e obbligatoria. Ma dai, ma non scherziamo. Nessun paese europeo accetterà mai e poi mai una cosa del genere. Perché si continua a dire questa cretinata, irrealizzabile, utopica? È la parola giusto? In autunno Salvini nota, nelle parole pronunciate dal ministro, un qualcosa di diverso. Dobbiamo lavorare ancora molto con l'Unione Europea. 13 ottobre 2020. Intervistato da AffariItaliani.it. L'11 novembre 2020 ha il giornale immagina un accordo con la Tunisia. Metteremo degli assetti come aerei e navi per un'allerta precoce laddove venga individuata un'imbarcazione di partenza. Una sorta di blocco navale alla Meloni, questo. E poi dice il 12 maggio del 2021 ad avvenire, dice, rivela quanto chiesto ancora l'Europa, dice, una tempestiva attivazione del meccanismo di emergenza finalizzato al ricollocamento nei paesi dell'Unione. Fino all'ultima replica avvenuta ieri sulla stampa, nella quale il ministro ha ammesso che l'emergenza c'è. Ma Salvini non la capisce. Ma veramente. Ma in che mani è finita? Ma povera Italia. Un paese leggendario in mano a queste persone qua. È veramente da rimanere senza parole. Da rimanere senza parole. Ma il capo della Lega dice, la Lamorgese chiede suggerimenti. Adesso nel prossimo video vedremo i suggerimenti che gli darà Salvini. ma insomma, una persona che ha aumentato gli sbarchi del 700% e dice Salvini non capisce. Non capisce. Aveva fatto il lavoro di ministro degli interni in una maniera eccellente che lo aveva portato al 40%. Matteo Salvini era diventato un idolo indiscusso, una star dovunque andava. C'erano migliaia e migliaia di persone nelle piazze, le piazze stracolme. Anche se la sinistra cercava di fotografare le piazze tipo tre ore prima del comizio. Dice, guarda, la piazza di Salvini è vuota. Certo, l'hai fotografata tre ore prima o tre ore dopo la fine del comizio. I giornali di sinistra hanno cercato sempre di screditare il capo della Lega con mezzucci da giornaletti condominali. Tristissimi, mamma mia che tristezza. E poi arrivava la foto di Matteo Salvini. Dice, questa è la foto del giornalone di sinistra e questa invece è la piazza quando facevo il comizio. Qui è una piazza dove erano piene anche le vie laterali e quella del giornalone, c'erano 50 persi, non è andato nessuno a vedere Salvini. Che tristezza infinita. Io vi ringrazio, al prossimo video vediamo i consigli di Salvini. Consigli per gli acquisti. Buona camicia a tutti, no? Maurizio Costanzo. Va bene. Grazie a tutti per avermi ascoltato e buon proseguimento di giornata.